Buonasera, buonasera e benvenuti negli studi di Gallarate. Volevo ricordarvi che il giorno 25 e 26 febbraio, presso il Giacomo Premoli di Codogni, il WLB organizza una giornata di apertura stagionale dove verrà presentato il campionato del WLB FMI 2012. In quella giornata sarà l'occasione per ritrovarci, scambiare quattro chiacchiere e vedere se il regolamento WLB è rispettato. Poche norme tecniche, ricordiamo a tutti i quanti di leggere il regolamento, di visionare nel sito del WLB Team la vostra iscrizione. Se è scritto correttamente il vostro nome vuol dire che Sandro Maccarone ha fatto il suo lavoro molto bene, quello di iscrivervi al campionato WLB FMI 2012. In quell'occasione ci sarà la possibilità anche di provare le proprie moto e metterle su un banco prova, come con quei tre Marc Antoni, Iacobucci Cristiano, Alberto Spremulli e il nostro cannolo, lui, il patticciere Aglias Fabio Solsi. Ci vediamo il giorno 25 e 26 febbraio, ricordandovi che la prima gara di apertura stagione di campionato minimoto WLB FMI è il giorno 18 di marzo in quelle di Codogno e per quanto riguarda le pitbike ci vediamo a Rioveggio il 25 di marzo. Con questo la vostra fata Morgana vi dà un bacio, vi saluta e ci vediamo il 25 di febbraio. Ciao! Ciao!